Maglia bianca, una prova al Zarinitmi con Ivanoschi che la dà dentro al capitano De Martin a rimbalzo, presenza importante, va nel numero 73, palla fuori da De Martin lo palleggi col contatto, tirata, tiro da centro area si va da De Martin, spesa molto aggressiva dell'estra che poi, come già visto in precedenza un pochino gli arbitri avrebbero preso in un punto e fischiato un fallo di sfondamento di là esatto, vedremo come ne uscirà Ramona provato per un tiro che tutto sommato è aperto e quando va da isolamento prende un tiro, creata separazione, tutto sommato accettabile, seguito il tiro a rimbalzo qua pick and roll in realtà è un pick and pop poi alla fine perché Bragalini il notamento De Martin chiama, sei il pick and roll, il defesa che rimane accoppiata non avrà perdere Marticcio, Taglio che occupa completamente l'area contatto un po' monotematico della Manoli spesa aggressiva qua, non c'è rollata dall'altra parte dovrà inventare il numero 50 di Cremona che pesca letteralmente un coniglio dal cilindro perché qua l'attacco era praticamente morto non c'è